Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in Viale Magna Grecia e proprio qui si stanno realizzando i lavori per la prosecuzione della pista ciclabile. Avete visto il fallimento nel primo tratto di pista ciclabile, in buona sostanza gli alberi a distanza di appena un anno dalla costruzione della pista stanno di nuovo sollevando la pavimentazione. Allora a questo punto il discorso è molto semplice, qui la pista ciclabile non andava fatta appunto e basta perché è un tratto di strade, un lembo, una linguetta irrisoria, fa solo ridere l'idea che i ciclisti, le persone in bicicletta possano passare lì sopra, ma fare una pista ciclabile dove ci sono gli alberi è pazzesco. Ma l'amministrazione ne ha fatto un'altra, si è inventata una cosa ancora peggiore, dice a questo punto qual è il problema? Il problema è rappresentato dagli alberi che sollevano la pavimentazione? Bene, eliminiamo gli alberi ed è davvero assurdo che in una città che ha bisogno come il pane, come l'aria del verde, cosa si fa? Per realizzare una pista ciclabile tanto inutile quanto dannosa si abbattono gli alberi. E' veramente uno scempio, è a mio avviso, l'espressione è forte, un crimine, non in senso giuridico per carità, ma in senso morale perché abbattere degli alberi significa ammazzare degli esseri viventi perché gli alberi sono degli esseri viventi e questo non si può tollerare. A Taranto per realizzare una pista ciclabile inutile abbattiamo gli alberi, che vergogna! Grazie a tutti!